La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ragusa ha posto sotto sequestro una villa di ispica di proprietà di una società che ha beneficiato di finanziamenti europei per realizzare una struttura ricettiva, ma che nei fatti non ha mai concretizzato l'attività. Il provvedimento cautelare è l'atto conclusivo di una lunga attività di polizia tributaria e giudiziaria, condotta dai finanziari della tenenza di Pozzallo, che hanno smascherato un abile tentativo di truffa ai danni del bilancio dell'Unione Europea, afferente alla riqualificazione di un immobile di pregio, sido incontrata a marzo. Le indagini hanno permesso di dimostrare come due soggetti residenti in Emilia Romagna e proprietari di una ruota in ad ispica abbiano eseguito un'ampia ristrutturazione dello stabile, gravando illecitamente sul bilancio dell'Unione Europea. In particolare, il risultato è che la ristrutturazione dell'immobile è stata realizzata grazie ad un finanziamento europeo di 200.000 euro, stanziato dal programma operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2017-2013 della Regione Siciliana, finalizzato alla creazione di una struttura ricettiva per la valorizzazione del turismo nelle riserve ad alto interesse naturalistico. Le indagini della Guardia di Finanza hanno consentito di constatare che sebbene il soggetto giuridico richiedendo il finanziamento e riconducibile al proprietario dell'immobile avesse percepito già parte del contributo europeo pari a 160.000 euro ed avesse ottimato i lavori di distrutturazione nel 2015, l'attività di bed and breakfast non è mai stata avviata. La struttura, già ritenuta edonea dagli uffici preposti del Comune di Ispiga per esercitare l'attività commerciale, è stata invece utilizzata dai proprietari come dimora per le vacanze estive. Inoltre, la società beneficiaria del finanziamento, rappresentata legalmente da un soggetto prestanome, è risultata essere priva di patrimoni e di mezzi, creata solo scopo di rendere inefficace l'atto di revoca della Regione Sicilia ed inapplicabili eventuali pignoramenti, finalizzati al risarcimento del contributo illecitamente percepito. Secondo i due emprenditori, sarebbe bastato un valido schermo societario, ovvero l'intestazione fittizia della società, ad un soggetto tezzo per evitare conseguenze, ma così non è stato. Infatti, la Corte dei Conti, condividendo in pieno gli elementi probatori raccolti dagli investigatori delle fiamme gialle, ha delegato quest'ultimo all'esecuzione del sequestro conservativo sull'immobile, finalizzato al recupero del finanziamento illecitamente percepito. Grazie a tutti.